Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 19 settembre 2024. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di oggi. Oroscopo vergine. In una culla di raso azzurro. A vostro favore Plutone, pianeta forte e carismatico in capricorno e urano in toro, tutti quanti in segno di terra come il vostro, casetta di campagna del sole e di mercurio, vestiti d'azzurro incoronati di foglie di vite. Tra voi e loro in veste di mediatrice la facciona tonda della bianca signora al plenilunio, che per tutta la mattinata acuisce sensibilità e saggezza, non solo nei vostri riguardi, ma anche in quelli dell'interlocutore, che si rivela più delicato e intuitivo del previsto, sentitevi in una botte di ferro, o meglio in una culla di raso azzurro, evocatrice di sogni illuminanti e ispirazioni creative. L'amore vi sorride ovunque, a casa se un partner c'è, in azienda se tra i colleghi qualcuno vi fila, ma ancora non vi siete decisi se raccogliere oppure no. Verità svelate all'improvviso hanno l'effetto dell'atomica, fate bene a fidarvi degli amici ma non di tutti, solo voi conoscete i vostri polli. Un uomo fondamentalmente pericoloso per voi, che recrimina, che vi odia, che nutre del risentimento per voi a causa di presunti torti subiti. Sarà bene restare quanto più lontani da questo uomo perché potrebbe comportare seri pericoli e danni, sia alla vostra persona che alle vostre cose. Incontri sbagliati per i single, fate molta attenzione a chi incontrate in questo periodo. Nulla è immutabile, oggi Marte inizia a ispirarvi il desiderio del cambiamento. Date un ordine, delle priorità a cosa vorreste cambiare nella vostra vita e disponetevi per attuare quei cambiamenti che vi sembrano possibili e importanti. Cosa vi fa pensare che non vi ami più? Se state cercando delle buone ragioni per lasciare il vostro partner evitate questa ragione perché vi dimostrerebbe che vi sbagliate. Ignorate le male lingue. Stanno solo esasperando un legame sentimentale già messo a dura prova ad altri problemi. Se vi sentite con poche speranze e con forze al minimo, fatevi coraggio e valutate caso per caso ogni situazione da affrontare. Prendete poi il coraggio a quattro mani e cercate di affrontare una cosa per volta. Gli avvenimenti quotidiani di oggi potrebbero convincervi che qualcosa si muove sul vostro futuro, è giunto anche il momento di rivedere la progettazione del proprio futuro. Pensate anche a rifarvi il look, bene se sceglierete anche un nuovo profumo che vi dia un alone di mistero e sia espressione della vostra personalità. Reordina la tua vita. Datti da fare. Non trascurare i contatti sociali. I nati di Venverdi troveranno nel partner un valido aiuto, spesso vi è sembrato distante, ma mai come oggi proverete quanto reale mnete vi ami e vi sia vicino. Un falso amico trama nell'ombra e vorrebbe trarvi in una situazione imbarazzante dalla quale sarebbe per voi difficile uscirne. Dovete vi atre assolutamente di finirci dentro e contare su tutte le vostre forze per smascherare il falso amico. Non abbiate paura di affrontare un problema e cercare di risolverlo, oggi non vi mancherà la grinta e l'energia per farlo. In serata organizzate qualcosa con gli amici evitando di restare soli. Mercurio congiunto nel vostro segno fa brillare il senso dell'umorismo, alleggerendo lo stress quotidiano, sia nel lavoro che in famiglia. Marte dal segno buon alleato del cancro rallegra quest'oggi la vostra vita di relazione e espande la vostra rete di contatti sociali, specie se siete nati nella seconda decade. Plutone invita il vostro fisico a mettersi alla prova, ma, forse, questa giornata è necessario vi concediate sport, diciamo più morbidi. Approfittate, se potete e la stagione, l'ambiente lo consentono, per immergervi in acque marine rigeneranti. Coprotagonisti con il sole brillante nel segno, messo però in secondo piano dalla luminosità del disco lunare all'opposizione, con il magico alone iridescente donato da Netuno. A sostenervi impedendovi di perdere la direzione, navigando controcorrente nelle acque del sogno, le due solide colonne d'Ercole impersonate da due pianeti in segno di Terra, Plutone e Urano, entrambi intrigono al vostro. Riposante il pomeriggio quando col passaggio lunare in ariete vivrete un po' di rendita, dei progetti e delle idee maturate mattinata. Amore ed Eros. Tutto in ordine, solo un filo appannato rispetto al solito trend. In coppia filati d'amore ed accordo, intesa speciale il gioco erotico, mentre da single state con gli amici, dicendo peste e corna sulle malefatte del vostro ex. Prestito ricevuto da un amico generoso, ma tenete a mente il detto, Paganini non ripete. Sappiate apprezzare il momento che vivete senza tirare fuori atteggiamenti per critici tipici del vostro segno se siete in coppia. Una magica intesa con la vostra dolce metà vi è assicurata da Marte in cancro e Urano in toro, specie se siete della prima e terza decade. Per i single notti bollenti di Eros e passione mai da voi sperimentate. Lavoro e denaro. Stanchezza serale, prevedibile con tutto quello che avete fatto durante il giorno, qualche preoccupazione in merito alle finanze, causa di ansia, magari motivata, ma perché continuare a girare il coltello nella piaga? Pensandoci a tutte le ore rischiate che entrino a far parte anche degli incubi notturni. Stanchi dunque al termini della giornata lavorativa ma non fiacchi, soltanto un po' più impazienti, smaniosi di uscire per andarvene a fare i fatti vostri, l'allenamento in palestra, una cena tra amici, una serata al club, dove si parla di argomenti scottanti, politica, attualità, tecnologia. Urano vi fa variare le modalità e i contenuti dell'attività lavorativa. Perché il tocco creativo che imprimerete, anche per i lavori semplici, è alla base della soddisfazione professionale ottenuta. Aspettate i riconoscimenti di carattere economico che confermino il vostro impegno e la dedizione al lavoro. Benessere. L'ipocondria oggi non attecchisce. Tutto fin troppo chiaro, testi ed esami clinici ribadiscono una volta per tutte che i malanni sussistono solo nel vostro immaginario. Scacciate i fantasmi e godetevi la vita. Lo zodiaco vi consiglia di non prendere decisioni troppo impegnative, specie nel settore degli investimenti che richiedono una riflessione più attenta. È più opportuno in questo momento una fase di cautela. Il duo Saturno-Nettuno vi rema contro, dal segno nemico amatissimo dei pesci e specie se siete nati nella seconda e nella terza decade. Per lei, un gesto gentile o un'azione benefica è già sufficiente a cancellare il senso di colpa, doveroso perdonare gli altri, ma cominciate a farlo anche con voi stesse. Per lui, imprevisti e complicazioni lasciano un senno sul sistema nervoso che registra ogni minima variazione ambientale. Stomaco chiuso da preoccupazioni, a tavola la buona musica aiuta mentre il telegiornale blocca la digestione. Colore delle emozioni, rosa corallo. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 9, finanze, 8, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.